Siamo con il sindaco di Leporano, l'avvocato Angelo D'Abramo. Un incontro questo con la senatrice Scopeliti che è un momento importante perché vuol parlare di giustizia, vuol parlare anche di certe mostruosità che si sono perpetrate con l'auspicio che la giustizia sia davvero resa da uomini giusti. Il suo pensiero e la volontà dell'amministrazione per realizzare questo incontro, lei come amministratore della cosa pubblica e come uomo di legge in quanto avvocato? È un incontro importantissimo questa sera che fa parte comunque degli incontri culturali che l'amministrazione che mi si è prefissata di portare avanti. In questo caso parliamo di un caso riguardante proprio la giustizia, ma giustizia tra piccolette portata avanti in un certo modo per alcuni anni, ma ritengo comunque che la giustizia non abbia sbagliato. È stata indotta in errore da alcuni aspetti, alcuni particolari, riguardanti sempre i pentiti, che i pentiti non lo erano in questo caso. I giustizia hanno valutato sulla base di alcuni aspetti, di alcune risultanze riguardanti proprio i pentiti e che poi hanno portato alla condanna di Enzo Torto e quindi a un danno grave, gravissimo per una società civile in quanto tale. Ma purtroppo poi si è andato avanti, anzi, senza pulire purtroppo, i risultati sono stati poi chiaramente quelli che sono stati sotto gli occhi di tutti, cioè quelli dell'assoluzione piena di Enzo Torto, perché poi la verità viene sempre a galle e quindi in questo caso la giustizia ha trionfato ed è sempre così.